buongiorno a tutti di nuovo nella clip di oggi ho piacere di presentarvi quelle che sono le attività concentrate sul mondo assistenza post vendita e ricambi. Noi abbiamo il dovere oltre che la necessità di fornire ai nostri concessionari e quindi indirettamente ai nostri clienti un servizio d'eccellenza, servizio d'eccellenza che coprirà i settori e gli ambiti della formazione tecnica e l'ambito della diagnostica per macchine che diventeranno sempre più complesse per rispondere alle nuove esigenze di un'agricoltura moderna. Come ultimo punto non meno importante ma forse il più importante tra tutti quelli che ho citati assieme allo sviluppo del prodotto è l'aspetto ricambi. Stiamo approntando un investimento importante dal punto di vista economico e anche tecnico nella creazione di un nuovo magazzino di ricambi all'interno del perimetro aziendale che sarà dotato di tutti i strumenti tecnici di ultima generazione per permettere di dare ai nostri clienti un servizio eccellente e rapido in ogni situazione. Bene, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima clip.